Tommy Mestrello, cominciare così una stagione, direi che dopo l'anno difficile che hai avuto, meglio di così non potevi aspettarti, no? Sì, sì, è stata una partita dura, ora comunque siamo arrivati fino ai rigori e dopo due tempi supplementari. Però comunque avevamo voglia di dimostrare che quest'anno abbiamo voglia di dare il massimo a ogni partita e vedere dove possiamo arrivare. Quindi sono molto contento per la prestazione di oggi. E per il gol immagino, insomma, ancora di più. Beh, c'è altri attaccanti, dovevano fare gol, quindi sono contento anche personalmente per il gol che ho fatto. Ci spiega un po' la dedica, Filippo, l'avevi pensata? Sì, diciamo che tramite la squadra e lo staff abbiamo pensato di dedicargli questo gol, se doveva essere, e poi sono stato fortunato a farlo io perché sono passato come prima persona l'anno scorso, quindi so cosa vuol dire, so che anche questi piccoli gesti possono, anche un sorriso, così possono aiutare a superare questo infortunio. Dopo un anno che praticamente da queste parti non ti vedono, tu sai che ci sono grosse aspettative sugli spalti del mercante nei tuoi confronti? No, queste sono le aspettative, spero di dimostrare, insomma, di essere pronto per fare bene.